Tanto mi ha fatto portare la diretta, vaffanculo, ma che stai insieme? Sì, infatti mi è arrivata la notifica. Lupo in diretta! Eh, anche a me appena adesso. Mi sembra semplicemente fare un po' le dirette e gli utenti se ne vanno. In che senso gli utenti se ne vanno? Eh, ero a 25 e 30, sono a 19. Ah, ho capito. Sono a 19 perchè si sono cancellati. Succe. Ahia, dovevo aspettarmela questa. Ok, mi ha laggato un po'. Bastarde, fighe. Dio porco quanto li ho di camperoni. Eh, poco fa con Sgib, poco fa con Luca parlavamo del... di Subotai, no? Mamma mia che giocatore di merda. Eh, vedi, vedi. Parlavamo di lui. Mamma mia. Quando tu mi chiedevi, ma a chi stai parlando? Poi ti ho scritto che ero con lui. Insomma, si parlava. È un po' particolare di... No, non è particolare, è un napo di fighe, cazzo. Eh, lo so, Sgib, però sai, non... Non voglio... Tu non puoi giocare a un gioco... Diciamo, però è così. Ma tu non puoi giocare a un gioco adrenalinico, di movimento, sta fermo. Sta fermo. Bravo. Quella dici, è bello, eh. Eh, ma... Forse Kod e sto zitto. Forse Kod e sto zitto. Forse Battlefield sto zitto perché è proprio la tipologia di gioco che ti costrigge a giocare in quel modo. E mi sta bene. Ma questo no. Questo non lo tollero qua, gioco qua. Doppia. Fanno... Che peccano. Ti mette lì con speedfight! No! Vabbè, è lo cagare, va. Non è cagare! Basta. F***, cambia gioco fai prima. E poi sfotte anche sfida! Mi viene in PC, poi lo lascerò anche perdere. Mi piacerebbe farla privata tirandogli via! Spitfire! Uno... E tutto con l'obbligo deve stare per forza in movimento. Quanto dura! Che peccano in metallo che aveva dovuto niente. Uno, due. E' così come fai, Tylan! Enemy a A! Enemy captain B! F***! L'autotitan ha migliorato! Eh... Che picci vuole in... Tutti di controllo, no? B captain! Che bello! Sono ultimo! Che bello! Sono ultimo! E guardi... Che... stop their retreat the f**king machine ah ciappa da c**o dai spara a fara goll ho preso all'ultimo minchia che c**o no adesso il invito a noob si prova ai tarlo ah va c**a ai tempi dell'emoloch non te lo ricordi beh ormai se g66 Di più forse Non lo so Forse anche di più Boh non mi ricordo Non mi ricordo Come armi alte Parlo di alte Ho la car che è un G82 Anch'io Io G100 la car Addirittura Io G88 23 la carabina Dopo tutte le altre C'è l'epiccio a livello 7 Non l'ho mai usato Io ho La car E l'alternatore che è il G6 Poi il resto non l'ho mai usato Ho usato poco il resto Il radius ce l'ho il G51.9 39 G39 io il radius Io il G32.7 Cazzo non pensavo di averlo così alto il radius Ma io ho usato anche l'archer Che ce l'ho il G7.10 C'è l'alternatore che cazzo è l'LGM Ah l'LGM E io ce l'ho il G6 Quello l'ho usato parecchio anche L'archer pure l'ho usato E' bello si E adesso uso Il radius Quello accelerato No 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 E' un cazzo E' un cazzo nel culo Figo usarlo così No io mi diverto perché quando ti salti davanti ai Titan praticamente Riesci a colpirli A volte capito Mentre comunque altro Ora che si carica Ci vuole Il radius accelerato I piloti Gli one shot Potti Con i Titan Con il radius di piloti ne ho uccisi 11.000 Minchia Solo con il radius Sì ma ti dico che sul BIMO L'arma primaria era il radius Usavo solo quello Facevo partite solo con il radius Io qua non riesco a usare il Krabber Io invece Porca puttana Non riesco a usarlo su Titanfall 2 Sul 1 si lo usavo come niente Ma sul 2 non riesco proprio A me sembra tanto sculato il Krabber Come Perché vedo che fanno di quegli anticipi esagerati E poi il colpo Il colpo è parabolico Cioè parte alto Poi scende verso il basso Invece sul primo Era dritto il colpo Era lento Era lento Però era dritto Ma qua ho visto gente che sparava tipo Contro i muri Vedevi il proiettile che rimbalzava E arrivava dalle parti tue Sì sì C'è la funzione Che metti i proiettili Porco Dio ho detto In The Opus 2 siamo arrivati La prossima volta metteranno Uno che vede attraverso i muri No tu spari Il proiettile passa attraverso i muri Ti uccide la prossima volta Eh Hanno fatto un sacco di cazzata nel 2 Figa Eh aspettiamo il terzo Aspettiamo Visto che adesso non c'era più Non c'era più la cosa Adesso Lascia voglio vedere La cosa principale è il set per l'altra shit No Quello che non c'è Bello che non c'è Bello che non c'è Be captured The enemy app C Capture it Noob te l'ho fregato io Noob Intanto mi amplifico un po' Così prendiamo un po' di Oh e che cazzo Un altro camperone Wallcroft Eccolo di andare un po' su Cio Non ci credo L'ho visto 8 anni prima io Madonna la caraccio mappa con l'odio Ah è l'assorto mi ha ucciso Sto coglionazzo Affanculo Quanto odio la caraccio mappa Guarda Oddio cane no Ma la cosa che ho di più figa sono le pg La pistola smart Ma stucchiamelo Mica ho fatto 3 kill su B E che cazzo Dopo mi hanno ucciso con la fire star Sto morendo un po' troppe volte eh Adesso mi si giro nei pg Mi sto prendendo C Dio vado a su bravo con Titan Ehhh che perché c'è un Titan Inmigo Capturing B B capturato We have control We have control Explode Autopilot KIA Ma baffanculo il salto fasico Un'altra arma che ho Un'altra cosa che odio Eh sì Infatti è molto Ahahahahah Cia tre ne erano a dentro C'è qualcun altro su B? Erano in tre ma Cazzo che Ah sei tu che mi sparino Ma vaffanculo Che cazzo t'ha visto Sto Siamo in giro! Siamo in giro! Siamo in giro! Siamo davvero vieniamo! Siamo in giro! Ah fuck! Siamo in giro! E' rotto il cazzo con sto softball! Siamo in giro! Eccolo qua! Già proprio! C***o col pompa anti-invisibile! Ma non si può essere più cancri di così! L'ho vendicato io! Grande! Mamma che c***o mi è scoppiato il tic sotto le scale! Dio canaia! Pure la granata in faccia mi è arrivata! Oh! C***o! No B non te lo lascio basta! Mi hai rotto il c***o! A capturato! Ma guarda sto c***o! No! Ah fuck! Ho detto un softball di merda! Ehm! Ehm! Mi ha fatto il tiamento! Non mi ha fatto il tiamento! Ah ma sono i tuoi! Non mi ha fatto il tiamento! Ehm! Oltre a teatro! C***o! Ehm! C***o! 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 mi ha perso dio cane aspettavo di mettere sta partita per poco proprio nooo l'auto titan mi ha pestato mi va a battere a fanculo va non ce la faccio a perdere l'astronave no aiuto partita no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vorrebbe un bel piloti contro piloti adesso. Con lo scorcio adesso vai a cagare. Con lo scorcio allora Sgib scusa però il migliore è caccia alle taglie con lo scorcio. Bounty hunt. Che fai di quelle stranaggi. Sto cercando di fare i piattelli anche con lo scorcio. Ce l'ho fatto un paio di volte. Eh lì è difficile di anticipare tanto tanto. Tanto tanto. Grazie. 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 C'è qualcuno online? Grazie. 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 SITZ! SITZ! Vedi? Letto! FANDIOXIDE! Mi sa che sono quelli di prima, mi sa FANDIOXIDE l'ho già sentito io, non ce l'abbiamo... L'abbiamo già incontrato, eh! Perché Kirill la fa... e... rompe un po' i coglioni! E poi c'è WALCROPTZ Che ha rotto io abbastanza i coglioni prima Insomma, Nub è rimasto, invece! Faccio l'ultima, l'ultima, invece è rimasto Eh, penso forse questa, l'ultima Ah, faccio l'ultima, nel senso questa! Ah, pensavo che era... Penso, eh! Ma può essere, può essere, l'ora è vero così Un, due, tre, TELLA! Un, due, tre, TELLA! RELODI! Stiamo prendendo il C! Ehm, stanno andando in giù? Sì sì! Intanto amplifichiamo a BRAVO Che praticamente è già amplificato Vado a dare io C Anch'io vado giù in C Ok Ma da dove cazzo sei arrivato qui? No, dove in B M***a, pure invisibile, ma che cancro! Io non amplifico però, vado direttamente in BRAVO Porca puttana, pure la torretta! Call it when ready! Ma no, la torretta mi ha fatto! Pensavo che non arrivasse fino a qui Invece sei girata fino a qua Sta torretta di merda Ma crepa Oh, guarda qui che si è fatto le sue cinque kill Min***a, la mia torretta è neanche lo stava cagando quello Be captured! Keep going 6-4, we're winning this thing! Oh no, non li ho ieri The VF The K*** ...la cramata Emergency Because of the K*** ...the enemy ...the enemy ...the enemy Destroy the enemy ...the enemy ...the enemy No! Ma guarda te! Mira dietro alle spalle, mira, è lo stronzo. E questo lo amplifico pure, sto B. Tuca, 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 tuca. Occhio, no, no, è un ologramma, però arriva qualcuno. Quello lì non è un ologramma. Anche a Ronnie indietro. Oddio, amore, quel Ronnie di merda, guarda lì. Ha fatto una doppia kill così. Fatti. Oh, origami, è arrivato. Ma è strano che non ci fossero gli order, no? P.C.A. Non usano solo quello come arma. No. Ci sono preso il controllo. Che non ci sono mai? Nuttia. Mi aicchiacca non ci sono. Tu non ci sono, non ci sono. No. No. Noi. No, di loro. No. No. È stato per la sua volta. Tu non ci sono. Povero titan è stato massacrato di brutto 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 Povero titan è 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 massacrato di brutto Eccoli là, quando mi piacciono quelli che lanciano le granate, a sentimento, ti prendono. No, torretta no. Bella. No, raga, mi sopra, bastardo. Ma tu cazzo, c'è un blocco, tío. Just lost A, guys. One camp in C. Oh, no! Oh, no! Oh, no! He's on the upper balcony. Ok. L'ho preso io. La pescevo... Ottimo, mi chia, ci hanno preso tutti punti, brazza. Ma che cazzo vuole questo qua che fa il manager? Ma che cazzo vuole? Non lo so. Ma, che se ne stia zitto? Ma che cazzo vuole? Ma che cazzo vuole? Ma che cazzo vuole? Otto? Come non detta. Ma vaffa il culo. Ma che cazzo vuole? Ma che cazzo vuole? eh? ma che cazzo? Perchè tutta stas figa? ma che cazzo? guard both activated, tracking off all A captured I'm barf fucker enemy captured C eeeeh eeeeh va be curato arredito ma che cazzo? ma che cazzo? ma che cazzo? ma che cazzo? need to get out B or we're gonna lose I'm on play shut up hahaha suck it tío porco ma che sfiga ragazzi che sfiga che sfiga sta partita guarda puttana la madonna guarda una sfiga allucinante eh io mi spiace ho attaccato soltanto mi hai fatto bene comunque sempre delle deterrenze però io ho una sfiga perché facevo ho fatto delle morti assurde capito nel 5 è sopravvico non ci riesco a prendere non ci riesco a prendere ma forse si ma invece si te Sgib hai fatto 24 kill per niente praticamente io andavo prendevo il punto pulivo e me ne andavo se invece rimanevi ne amplificavi e prendevi qualche punto in più ma c'erano gli altri ah ok se non c'era nessuno non mi muovevo se c'era qualcuno me ne andavo 악 oppure Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. No. No. Sferro. Grazie a tutti. No. Un pochino. Grazie a tutti. No. 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 Aragami Oh, ho preso Mr. Brawl Black al volo con Radius Con il plasma Raigul, volevo dire Ogni tanto Ma che il GG, bognuno, eh A me p***a per sto c***o bla bla, eh Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok Almost got you tight! Keep fighting! Standby for tight, Cole Get to the evac point Eccomi qua Boh Ragami mi ha ucciso solo a pugni praticamente Ma chi è me? Si si a chi è me? No Mr. Polblank la boh Che cazzo si muove troppo troppo velocemente come cazzo fa? Boh Beh sai che ero in espulsione ok? ero di schiena lui ero in espulsione lui si è girato ha fatto un quick scoop e mi ha preso al volo Menchia col Krabber al volo metterlo in espulsione A me mi hanno preso più di una volta col Krabber al volo in espulsione però da a terra praticamente che mirava per aria ma come dici tu non mi è mai successo beh io ero su lui era girato di schiena si è girato mi ha sparato no boh c'è qualcosa che non quadra oh Subbotai sta giocando a titanfall 2 ah che bello vuoi vedere che adesso troviamo lui e Mr. Broblacco insieme che bello e la ragami minchia Subbotai te 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 Se vedi tante tette così voglio venire anch'io Ah, è pieno eh, qua è pieno eh Ci sono parecchi di questi Hydrake, no? Se non sbaglio Beh, sì, siamo... Beh, sull'1 eravamo molti di più e adesso qua sull'2 saremo una decina Una decina sull'1? Sul 2? Eh? 10? Sì, sì, una decina circa Però sull'1 eravamo molti di più sull'1 Queste volte quando facciamo le partite private riempivamo due lobby Sì, dobbiamo fare... proprio divisioni di squadre proprio Certo, una con una lobby e una con un'altra Il TS chi lo gestisce? Io! Tu? Sì, è il tuo, diciamo Mh mh Bla 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 C'è? No, c'è il burro, no? Sì, sì, c'è proprio qua, giù già C'è questo coglione di bla 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 Ti ha segnalato Ora prima di iniziare Porto avanti Perciò Iluminate Remnant Fleet Forces Remnant Fleet Forces Remnant Fleet Reinforcement Inbound e chi lo prende? va 300 va oh guarda lì cè bo che ho capito che sembrava il colcicchino ma questo è proprio al di là di ogni immaginazione comunque io mi sono mostro anche a destra e a sinistra e riuscito a capire lo stesso e a uccidermi che si era assurdo che 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 come il tagliare un pirla figa chi l'ha ucciso della black? tipo che l'ha schiacciato forse che l'ha ucciso della scuola Noooo Ma stucchiatemelo tutti Noooo Mr. Bloodluck di merda alle spalle m'ha preso figlio della migno Mamma 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 Vieni qua Vieni qua Ti voglio stuprare Dov'è lo stronzo? Mi ha portato via tanti soldi lo stronzo Eh ti sento eh Ti sento Ma vai cremarmi PERNA Vieni qui non è morta tu No le piggino eh Le piggino Oh Che peccato O-oh Perna Perna La Perna 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 No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Fire! Fire! Sector A is clear of remnant fleet forces. Fire! 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno No, come non è morto? Io non ho troppo fester in bocca praticamente No, succhiammelo No, madonna Mi sto pensando a radio, eh, radio, sono il Titan e mi serve il fatto che mi rompe il cazzo a me No, come va No, come va No, no, no Le这个 Onto è che il Invegliare i vivi Si Si Sì, c'è un po' di titans attacchi, attacca l'option, a teori trappi. Ah, fa un c**o il titan, guarda che ne ha 310, vai, uccidilo Chi sta c**tando? chiede a BlaBlaNk Questo non lo sa Dove te ne vai mister BlaBlaNk? No, questa volta ti uccido io Sono l'unico che ha risposto Universo di me, si, 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 madonna per un pelo non è morto Eeeh, è mia la titan, è mia la titan, è mia, è mia A un c**o Mare che tu Sì, la c**o è una titan, è una titan, è una titan, è una titan. Non è che ho 600 di soldi devo depositarli tutti No, non me li ha fatti depositare tutti, si sono chiuse le banche prima E ne ho 400, penso che cazzo faccio Che purtroppo te li tolgono Purtroppo lo so anch'io Aspettare la prossima riapertura Guardalo! Oh! 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 Il 4-11 pilot attaccato, ring or active. Dominating like a true 6-4. Back up, back up! Incoming, hot stop power. Other display, let's go to the deck. Hands up, don't stop, let's go! Back up, back up! Get a 24! Sector A is clear of Remnant Fleet Forces Do we have any pilots in the area? I have 717, I don't know Lo avevo! Merda per un pelo! Mi hanno uscito prima! Ne ho messi tutti! 7.93 ne ho messi! Minchia! Ho vinto! Si, mancano quattro punti! Stai a lavorare insieme, team! Buona vittoria! Nooo, da dietro! Chi c'è sto stronzo? Chiro Omega! Ebbè figura, Dio! Dai figa, eravamo tutti e due in espulsione! Era di spalle, si è girato e mi ha preso col Kramer! E' morto Mr. Black! E' morto! Nigniga! Nigniga! Puff! Ho detto Nigniga! Se l'è sentita! Ma però veramente è assurdo quel Mr. Blanc Blanc! Guarda, io ho visto le sfide che ha fatto lui e Benji! Si sfidano a colpi di Krabber così! Ehm... Non lo so che cazzo pensare! Perché comunque... Là su YouTube! Ehm... 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 Stanchi? Era per romperti i coglioni! Che bastardo! Era per romperti i coglioni assai! Oh Gesù! Vabbè va raga! Allora a sto punto stacchiamo il tutto!